oh wow che bella scatola un pulsante premiamolo ehi ma che succede? come ho fatto? ma queste sono palline? come sei entrata lì dentro? non lo so non riesco a uscire ma che dobbiamo fare per salvarti? dovete trovare le chiavi le chiavi? beh troviamole troviamo la prima chiave apro il primo uovo aprilo forza ok bene wow pop it pop it ma non c'è la chiave proviamo con il giallo un serpente un serpente non lo voglio tieni non lo voglio tienilo tu ok non c'è nessuna chiave prossimo wow non va bene proviamo con il verde che sono questi? e non c'è la chiave che sono? e non c'è la chiave aprilo forza questo è l'ultimo spero ci sia la chiave forza cerchiamola ho trovato la prima chiave sì let's go ho trovato la chiave guarda sì presto sarò libera sì e vai Jason quante palline ora la sfida dell'aereo se centriamo l'obiettivo avremo un'altra chiave andiamo forza Jason oh yeah yeah wow uh-ha uh-huh ah-ha-ha sì sì abbiamo la seconda chiave abbiamo trovato la numero due sì la prossima forza rosa ed ecco la sfida numero tre mettiamo le forme nel giusto ordine stella triangolo esagono quadrato ecco tutte le forme sì sì non ci credo guarda la scatola è la nostra chiave andiamo andiamo sì adesso possiedo la terza chiave apri forza fatto sorprendenti prossima sfida wow giallo sfida quattro sano sano o non sano cominciamo forza ragazzi che cos'è? è una fragola è sana molto bene è sana e la banana è sana non è sana e l'uva è sana non sono sani più sana nuova sono sani sì chiave numero quattro grazie oh sì alla prossima sfida sì oh oh sbrigatevi ragazzi sfida numero cinque sfida dei bicchieri tre due uno via oh yeah se l'abbiamo fatta sì la chiave la chiave perduta andiamo Jason abbiamo trovato la quinta chiave sì ragazzi sbrigatevi oh sì dimenticavo oh sì sì rosso penso che ora si aprirà si apri si apri wow sì sono libera grazie ragazzi avete completato tutte le sfide e ora sono libera ce l'abbiamo fatta grazie per aver guardato il nostro video mettete mi piace e iscrivetevi ok ciao